Vambastenregal, Velardalasol, Villaz e Victor Denigriff in prima fila. Velvetlake R, Vitton, Vento del Sud e Ubaldomeni in seconda. Alla chiusura delle ali Vambastenregal e Villaz a Leprese, più a largo Victor Denigriff, più a largo ancora Ubaldomeni, quattro su di una linea. Anche nel secondo schieramento sono in quattro, con Velvetlake che è filtrata in seconda posizione, duecento in tredici e otto. Vambastenregal impegnato da Villaz che ottiene strada al passaggio davanti alle tribune, a sua volta attaccato da Ubaldomeni. Ne viene fuori un quarto iniziale notevole in ventinove e due, sul piede dell'uno e tredici. Villaz ha respinto Ubaldomeni, seconda posizione alla corda per Vambastenregal e terza per Velvetlake R. Seicento in quarantasei, ultima frazione in sedici e sei, Ubaldomeni si è adeguato a largo con ischiena. Il buon Tufano con vento del sud e Vincenzo Luongo con Victor Denigriff. Ottocento in uno, uno e sette, un'altra frazione lenta, un quarto intermedio in trentadue e mezzo. Corsa a strappi, Villaz e Giustino Panico a comandare le operazioni, affiancato da Ubaldomeni che non mette pressione. chilometro in diciassette, Ubaldo sempre ai lati di Villaz, adesso sembra voler insistere, Schettino, sorriso sulle labbra. Ottocento, settecento circa dalla conclusione, apparigliati Villaz e Ubaldomeni in testa alla corsa. Poi Vambastenregal con ai fianchi vento del sud, quindici e mezzo la piegata. Si prepara Victor Denigriff a venire in terza ruota in cerca di Varco, Velvetlake R. Nel frattempo sta passando, Ubaldomeni al miglio in due due sette, passa ed è impegnato da vento del sud. Poi Victor Denigriff in terza ruota a Vitton, ancora chiuso a Velvetlake R. Victor Denigriff muove in terza ruota. Battute conclusive con Victor Denigriff che prende la media a centropista. Victor Denigriff mette la testa avanti al numero nove, Vento del sud, mentre per il terzo, Velvetlake R. Non trova mai da correre, lo fa solo nei cinquanta conclusivi e viene a raccogliere la terza moneta. Quindi arrivo probabile ed ufficioso, 5-9-7. Alla quinta dal Ciridiano di Aversa, sugli scudi, Victor Denigriff, colori della Safra Fass, training di Giorgio D'Alessandro Senio. E in salchi, Vincenzo Luongo. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,16 sul doppio chilometro. Molto bene vento del sud, mentre Velvetlake R è sfortunata, ha trovato da correre troppo tardi. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,16 sul doppio chilometro. Grazie a tutti.